Ciao ragazzi e bentornati qui da Ralonzo per una nuova e avvolgente avventura qui con Resident Evil 7. Oggi siamo qui per la tredicesima puntata e dopo di che ieri mentre una lotta canita contro la nostra signora Margherita che si era trasformata in donna ragno o giù di lì, siamo stati interrotti da un crollo di software del computer e allora non abbiamo potuto finire la lotta che era sulla strada già vincente per noi, comunque dai riprendiamo da dove ci siamo lasciati poco prima con questo nuovo episodio, episodio numero 13, speriamo ci porta fortuna e vai! Strani ingredienti, ok il braccio nella vecchia casa dobbiamo trovare, vai! Intanto però torniamo, se si può, se si può eh! Indietro solo per un attimino, perché dobbiamo avere un paio di buone armi e un paio di buon equipaggiamento nel senso di munizione e allora siccome che vorrei andare a vedere un posticino che si può aprire con la chiave del corvo che abbiamo preso già dalla penultima puntata vorrei vedere, ecco qua è il ragno, vorrei vedere appunto cosa possiamo trovarci in quella stanza lì, mi ricordo più di preciso dove dove fossi stata perché adesso si vede la frecetta qua, dove ci fosse stata la stanzetta perciò dobbiamo fare un paio di giretti, di giretti, di giretti aspetta che mi sta venendo in mente, aspetta 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 aspetta, lo so, dobbiamo andare giù ragazzi giù di lì dobbiamo andare giù di lì perché se non erro completamente si trova da queste parti da queste parti da queste parti se non erro completamente e cioè qui da qualche parte eccola lì, eccola lì, l'abbiamo trovata ragazzi lasciaci entrare lasciateci entrare benissimo ok polvere da sparo poi non ci sono non ci sono slot per il fluido chimico ma niente dobbiamo andare un attimo qui dietro a a che si va che non mi ricordo che non mi ricordo e qua no dobbiamo andare indietro un attimino a depositare un po' qualcosa ok nello safe room che è qui bene dai piano piano le scorciatoie ci ritornano in mente ok dai via 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 la maglum via la pistola vecchia ho rotta questa che cos'è? foto tesoro ok questa la teniamo questa la teniamo un fucile a pompa ci potrebbe anche ancora servire combustibile solido anche cattici per fucile anche va bene ok per il resto penso che possiamo depositarlo tranquillamente nel baule e adesso entriamo di nuovo nella stanza del cervo qua cosa c'è? ah un geletto nuovo qualcosa da leggere niente più nuovi oggetti qui questa è una bella coscia cos'è? lancia lanciabranate un lanciabranate improvvisato puoi usare diversi tipi di cartucce va bene equipaggio gli oggetti dai vediamolo vediamo se si può ok dobbiamo ancora metterlo magari su una delle nostre recette direzionali per avere l'accesso istantaneo alla come si fa? non si può? va bene dai non posso prenderla boh strano perchè no? perchè no? perchè no? perchè no? plurolicudo non ce n'è ok non ce n'è non ce n'è per noi ok andiamo andiamo verso la nostra signorina Margherita che ci aspetta già per la rivincita della battaglia di ieri stavamo veramente per vincerla e poi è successo il patatrack con il computer ok ci rifaremo vorrei solo speciare qua un attimino per il resto dai per il resto dai ma perchè non posso prendere questa qui? non posso equipaggiarla strano se non posso equipaggiarla tanto vale depositarla no? aspettiamo se deposito il fucile posso equipaggiarla o no? questa no non neanche strano va bene dai non si può non posso usarla chissà perchè nessuno è qua che me che me l'ha potuto spiegare comunque dai chi se ne frega diciamo meno noi ciao buon riposo lanciagranate facciami facciami la nonna ok bueno fluido chimico benissimo dai è ora ora erba combina e vai soluzione medica forte questo è il lanciagranate va bene dai potevamo metterlo dai che lo mettiamo nel deposito anche questo perchè inutile prendercelo con noi solo per occupare un posto nello slot vai cius adesso proviamo ad andare di nuovo dove c'è la nostra amichetta la nostra amichetta innamoratissima di noi la margherita ehi margherita stiamo arrivando ah no qui non si va credi qua non si va ma credi qua si andava o no ho sbaglio no no sbaglio era giusto solo che la porta mi ricordava a quell'altra porta e allora va bene dai ok stessa tipo di stesso tipo di design di porta porta design ok primaldello che non c'è a disposizione ci serve qui però pazienza allora altro qui non c'è va bene andiamo giù che non abbiano nascosto proprio niente in quel bel armadiolino combustibile bene bene facciamo subito una bella ricarica fucile dove ce l'abbiamo qua bene bene perfetto 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 niente se io vado avanti qua e poi a sinistra dove dove no ecco qua questa è la uscita bloccata che abbiamo già visto ieri ok andiamo qui di su non andiamo ancora perché c'è la signorina allora andiamo prima qua se possiamo raccattare il tutto e il di più che ci possa servire gius dai bene fluido e armi fluido chimico visto che abbiamo una bella erbetta possiamo subito combinarla grazie e siamo abbastanza messi abbastanza ben messi ok ok negli anni abbiamo bisogno di un po' di calore perché ovviaci sempre al freddo non fa bene neanche per loro qui qui c'eravamo già stati 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 ok ok aspetta un attimo adesso andiamo qua qua c'eravamo no è chiusa chiusa psico stimolanti e qui si ritorna ah no qui si ritorna dove eravamo già stati prima bene ragazzi andiamo su vedete la nostra della nostra cara della nostra cara facciamo così della nostra cara signora signora cara ciao dai fammi sparare dai cazzo dai posso stare tranquillo ha detto bene 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 ah ecco qua dai dai apri combustibile sodo 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 bene 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 qui guarda qui cosa abbiamo di bello perchè ti ma chi te l'ha detto scemo ho consumato una ciao scappa dai dove è il fucile qua questa volta è la seconda volta che ci scontriamo oh non essere cattiva non essere cattiva più di tanto sennò qua non è bello per nessuno cius è un po' una mignota però sta tipa eh che sei una mignota sta tipa che sei una mignota sta tipa cosa ha mangiato cosa ha mandato la van posto dai la van scoperta eccola la quanto ci rimani per quanto ci metti cazzo per caricare dove sei? no sto qua io mi piace qua dove cazzo sei? amore dove ti nascondi cara mia fino adesso sto bene poi si vedrà dove cazzo sei? ancora la con calma venga come ci salta addosso sta qua oh è proprio è proprio una è la bel pezzo di una buona gnocca del cazzo sta qua eh non c'è più tanta non c'è più tanta munizione dai apriti sesamo or no mai qui qua Vieni! Vieni! Un'herba almeno. Almeno un'herba. Ok. 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 VIA 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 BASTARDI BASTARDI figli di puttana mi hanno rovinato tutto ma vaffanculo andate a fanculo veramente ma che cazzo iniziare da capo sta cazzo cazzo di seguenza qua dai 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 che prendiamo sti qua a vedere se possono farci trovare qualcosa di utile ma andate figa andate ok combina che l'uido chimico con combustibile solido ecco ah no che scemo ho fatto una palotola per il lancio per per lancio granate non c'è niente non si trova niente chiusa dall'altro lato quindi così qua non saprei non saprei non saprei trovare cosa ci indica qua questo dall'altro lato aspetta un attimo non c'è proprio niente qua per noi nulla da fare questa è bloccata bene aspetta andiamo qua ho sparato tutti i colpi di pistola messi però tutti a centro è risparmiato a quelli grossi di piscine vediamo come riesci a cavarti ciao 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 sono mi che da dove arriva questa è Vieni fuori! Dove sei? Sì vieni no? Sono qui! Ok ti aspetto vieni! Vieni! Eccola! Cosa fai di bello? L'inghia deve ancora caricare! Potevamo farla fuori ma niente! Ho dovuto caricare il fucile e il super! Allora! Forza! Parti sotto! Parti sotto dai! No! Di nuovo il tipo! Ha mandato la zanzara! A rompere il cazzo! Eccola là! Eccola là! Non abbiamo più niente da... Dai sbloccata! Niente! Non abbiamo più munizioni! Dove cazzo si possono trovare delle munizioni qua? Andando di qua forse? Siamo messi un po'! Via 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 via! Siamo messi un po'! Siamo messi un po'! Siamo messi un po'! Siamo messi un po'! non dirmi che l'abbiamo battuta che culo con l'ultima pallotola grande ce l'abbiamo vista brutta cazzo la laterna ragazzi miei all'ultima pallotola adesso ci danno le cartucce meglio tardi che mai ok la laterna abbiamo la laterna possiamo forse appenderla munizioni di pistola aspetta aspetta combina con questo ok la laterna cosa abbiamo ancora da combinare niente possiamo combinare niente possiamo forse caricare forse ci libera uno slot facendo così niente allora mangio l'erba ok perfetto 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 l'erba andiamo a lasciarla qua ok bene bene purtroppo il prezzo piccolo lo dobbiamo pagare no come si riesce da qua adesso va bene dai ragazzi direi che abbiamo compiuto la missione combustibile liquido cosa possiamo combinare ancora nulla 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 peccato adesso torniamo indietro che si va giù via di qua in un'altra parte di qua ecco ecco che si libera il passaggio ragazzi grazie mille grazie mille molto gentile molto gentile punizioni di pistola bene perfetto sono proprio contento guarda sono contento che non vi dico neanche quanto non vi dico neanche quanto bene ok andiamo un attimo nella roulotte nella roulotte a depositare qualcosuccia e dentro qua cosa possiamo depositare questo qua che non si serve altro invece può servire tutto o forse dai lancia fiamme magari non ci serve neanche più dai se no cosa abbiamo ancora qui ok lancia granate con tre cartucce bene facciamo una bella un bel salvataggino e dirigiamoci nuovamente verso la casa della palude per mettere la lanterna sulla quella specie di bilancia prima di salutarci ragazzi ok pronti qua aspetta l'obiettivo non lo posso leggere al momento devo farla un po' lunga per arrivare adesso comunque dov'è che si esce da qui non mi ricordo più tanto bene tanto bene devo andare di là su di qua poi no 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 di qua aspetta scusa un attimo scusa un attimo tonel dietro verso la galleria sì sì verso la galleria dove 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 di qua di qua di qua bene e poi dentro qua ok dai ragazzi abbiamo fatto una bella lotta un bel progressino in questa puntata eccoci arrivati dove volevamo venire e adesso andiamo su di qua su 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 e che suona che cosa qua qua da mo c'è qualcuno che è suonato questo l'abbiamo già letto va bene va bene qualcuno che ha suonato il piano volevo dire suonato sì dov'è l'altare l'altare no 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 indietro se non sbaglio era di qua eccoci qua ci siamo arrivati la lanterna bene bene grazie aggeggio miracoloso andiamo coccodrino cosa vorrà dire mai sto cocodrino qua come si chiama sta stanza niente stanza dei bambini andiamo verso i bambini ragazzi c'è niente qua ci stiamo avvicinando ci stiamo avvicinando a la piccolina come si chiama mi ricordo più il nome eccoli qua i giocattolini ragazzi stiamo facendo un altro bel passo oh no ragazzi prima di fare il passo più grande della gamba direi di salutarci qui d'accordo dai siamo in procinto di affrontare il prossimo nuovo contraente che sarà forse la bambina speriamo di no ma non si sa grazie ragazzi intanto fin qua che mi avete seguito alla grande e alla prossima statemi bene bacioni da l'allunzo ciao ciao